In questo video vedremo come stimolare due gruppi muscolari che possono esserti di grandissimo aiuto se stai cercando di migliorare il dolore causato da una borsite trocanterica dell'anca. La borsite trocanterica dell'anca è uno dei problemi su cui ricevo i maggiori ringraziamenti e maggiori apprezzamenti per la mia guida Soluzioni per l'anca. Addirittura in alcuni casi sono sufficienti questi due esercizi che vedremo adesso a risolvere una situazione dolorosa che magari era incastrata lì da mesi. Gli esercizi per questi due gruppi muscolari sono talmente efficaci che in alcuni casi mi capita di consigliare soltanto quelli per la gioia dei miei pazienti che si trovano soltanto con due piccoli compiti da fare. Continua a guardare, se questo video ti sembra interessante lascia un mi piace o un commento e tanto ci vuole solo un attimo. I gruppi muscolari di cui sto parlando sono i rotatori esterni e i rotatori interni dell'anca. Questi due gruppi muscolari hanno lo scopo di stabilizzare l'anca. I movimenti più potenti dell'anca sono la flessione e l'estensione ma naturalmente durante questi movimenti c'è bisogno di una serie di muscoli che mantengano la stabilità dell'articolazione. Purtroppo è piuttosto comune che venga a formarsi uno squilibrio tra l'efficienza e la potenza dei muscoli flessori e estensori e quella dei muscoli rotatori. I motivi per cui questo può succedere sono davvero un migliaio. Basta pensare che molti muscoli flessori ed estensori dell'anca aumentano il loro stato di contrattura in presenza di comunissimi problemi alla schiena. Quelli di ragioni per cui si può sviluppare questo squilibrio e le conseguenti infiammazioni ce ne sono davvero tanti. Se vuoi approfondire vai a vedere nei link nella descrizione del video ci sono degli articoli di approfondimento. Così come avviene con una frequenza maggiore a livello della spalla quando ci sono degli squilibri muscolari si possono infiammare alcune strutture. In questo caso parliamo della borsa troccanterica e infatti si parla di borsite troccanterica dell'anca. Ecco che andare a stimolare i movimenti di rotazione può essere davvero utile per migliorare il dolore perché si riduce lo squilibrio muscolare che questo dolore lo alimenta. Stimolare i muscoli rotatori non è propriamente semplicissimo ma non è neanche così difficile. Adesso vediamo come si fa. Allora per lavorare i rotatori devo mettermi sul fianco quindi chi ha problemi di borsite molto spesso necessita di mettere qualcosa di morbido un cuscino, un appoggio morbido. Allora su questo fianco posso lavorare i rotatori esterni da un lato e i rotatori interni dall'altro. Se voglio lavorare su un'anca sola benissimo poi cambierò fianco. Quindi com'è il movimento? Voglio lavorare su quest'anca. Piego il ginocchio. Il movimento che farò è questo. Il ginocchio rimane piegato a 90 gradi e lo rimane per tutto l'arco di movimento. Il movimento è questo, può essere più alto, più basso a seconda della mobilità dell'anca che uno ha però il movimento è questo, non particolarmente intuitivo ma neanche così impossibile. Per l'altra gamba devo trovare una sistemazione comoda. Chi ha una buona mobilità può anche addirittura mettere il piede vicino al ginocchio e usarla come perno, molto comodo, molto funzionale. Vado a ripetere per una ventina di volte, se una ventina di volte mi costano una fatica pari a zero posso usare una cavigliera da mezzo chilo per esempio e vado a fare un 3-4 serie. Da questa posizione posso anche lavorare sui rotatori interni ma lo faccio su quest'anca quindi se volessi lavorare su questa qua dovrei cambiare fianco. Per lavorare i rotatori interni il movimento è assolutamente analogo. Piego la gamba a 90 gradi, lascio andare giù e faccio questo. Anche qui, non particolarmente intuitivo ma fattibile. Basta ricordare che la gamba deve rimanere sempre piegata a 90 gradi. Anche qua 3-4 serie da una ventina di ripetizioni. Anche qua se 3-4 serie da una ventina di ripetizioni mi costano fatica pari a zero posso tranquillamente mettere un mezzo chilo per rendere un po' più complesso l'esercizio. Ecco il mio consiglio è di fare questi esercizi tutti i giorni per una quindicina di giorni. Questo è il tempo minimo che ti serve per capire se ti possono essere d'aiuto. Se questi esercizi dovessero essere già sufficienti a migliorare significativamente il tuo dolore benissimo non c'è bisogno di altro. Se invece volessi fare un lavoro ancora più mirato e personalizzato su quello che è il tuo disturbo per l'anca allora ti consiglio di consultare la mia guida Soluzioni per l'anca. È una guida molto semplice con la quale grazie a una serie di procedure sarà molto facile individuare quelli che sono gli esercizi più adatti al tuo caso e le progressioni che ti servono per migliorare di mano in mano il dolore all'anca indipendentemente da quella che è la diagnosi quindi se sia un aborsito oppure se sia un problema artrosico. Trovi il link alla guida nella descrizione del video fammi sapere com'è andata e ci vediamo alla prossima.